Tre uomini, tutti albanesi, sottoposti a fermo perché ritenuti componenti di una banda che ha perpetrato furti in abitazioni tra le province di Firenze e Siena. Il blitz è scattato durante la notte mentre i malviventi dormivano in un'abitazione del capoluogo, secondo quanto emerso dalle indagini, la base operativa della banda. Era un appartamento che in realtà all'apparenza era insospettabile, un'abitazione residenziale, molto tranquilla, anche lontano un po' dalle luci della ribalta, come possono essere i quartieri popolari qui a Firenze, dove magari sono più soventi i controlli della polizia. Tutto è partito da una denuncia di una donna residente a greve inchianti. Da lì le indagini si sono allargate facendo luce su altri episodi analoghi, tutti riconducibili ai tre albanesi, tutti senza fissa dimora, fermati dai carabinieri. Erano qui in Italia con un visto temporaneo di soli tre mesi e quindi era probabile ipotizzare che al termine dei loro colpi sarebbero rientrati in patria. C'era un modus operandi della banda? Sì, il nucleo operativo in realtà è riuscito a capire come facevano, nel senso che loro dapprima utilizzavano un'autovettura di grossa cilindrata, attraverso la quale raggiungevano i luoghi scelti per i colpi che loro volevano mettere a segno. Dopodiché fermavano l'autovettura, facevano scendere almeno uno o due complici, mentre uno restava lì in auto e con delle ricette trasmittenti mantenevano il contatto. Loro evitavano l'utilizzo dei telefoni cellulari perché magari consapevoli di probabili intercettazioni in corso. Sarebbero 11 in tutto i colpi messi a segno, recuperata gran parte della refurtiva. Gioielli in oro, preziosi di famiglia, cose alle quali le persone sono molto legate, addirittura durante la perquisizione abbiamo trovato una fede in oro, con l'incisione, con un nome di donna e una data, presumibilmente quella del matrimonio. I soggetti fermati, due comprecedenti, sono adesso a Sollicciano. Il loro fermo è stato convalidato. Nelle scorse ore i carabinieri di Firenze hanno fatto scattare anche tre arresti nei confronti di un gambiano per estorsione e di due tunisini per furto.